Un'altra barzelletta di quelle che non sentirete mai in televisione, ma solo ed esclusivamente sul sito esaurito. La ragazza al telefono. Pronto? Pronto, Saretto? Ciao, sono Jessica. Oh, Jessica, uomo zi, non ti faccio sentire. Senti, questa sera che hai invegni programmi, che fa? Usciamo? Io usciamo? Io non ti stai venendo a picchiare. Un tempo che mi faccio una doccia, mi metto a me per la moglie, stavo a me mazza. Mi metto un po' da te, 30 pesci, da te vieni a picchio. Io non ho quattro, sono io sotto la tua casa, ciao, noi avremo chi ho dato. E stasera sarà da un bacchamento, c'è. Il ragazzo si prepara, arriva sotto la casa, d'accusa, lei scende, le cantissime, viene il gonna, sta voltuna di chipe che non c'erano, sale sulla macchina. Allora dove andiamo? Andiamo alla siciliana? Io alla siciliana, c'era tutto, guarda, vuol dire, avevo mangiato parecchie di un della vita. Amorino alla siciliana, arrivano alla siciliana, si sentono a mangiare, chiede a segalare, vuol dire, una buona che pare che era segnista che aveva mangiato, arriva il conto, 250.000. Oh, 250.000, stasera, è vero? A stasera come tornavamo a dire, no, a giaccio, come andavamo a sostenere. In che senso? Uomo, in che senso? Come un bacchiare con i miei uri? Dai, smettela sempre una cosa, pensi? Andiamo a ballare, portami a Banachere. A qui, no Banachere, arrivano a Banachere, una usc'è 60 mila lire di entrata, 5.000 di costeggio. Oh, non stavo stando quando andavamo a Germania, stasera come andavamo a casa, qui sotto e qui su, per i schicchi, se ne sentono da un fruttino, a manbocchiare, tipo gli assiro baddolonesi. Ma perché, come facevano i te? I te non sace, ma quello passero come passero, non preoccupare. Arrivano in discoteca, pallano, trassero, escono, bevono, consumano, questi qua, tutta mattina, escono dalla discoteca, e dice, bene, accompagnami a casa, non do alcun bagno, guarda, chiamiamo, se ne ho tomano un vasino. Arrivano sotto casa della ragazza, io giustamente posteggiavo il tipo per notte, no? La ragazza dice, buonanotte, o buonanotte? E mi chiamate la tua casa, chiamiamo a fottere. Allora dai, smettela sempre una cosa, perché io sembro una cosa, mi ha costato quando andava a Germania, non a Germania normale, unificata, dopo la cascata del muro di Berlino, mi sta costando quando ho Giappone, io guardo questa chiamana a casa, a mo' a fottere. Ah, ma dai, smettela, che il ragazzo in un balzo pelino scende dalla macchina, si mette avanti, lo potecato dalla carossa, e dice, come fai chiamare la tua casa, e fotteremo, o non c'è la casa. Dai, smettela, chiamate, oh, adesso, quando manchiamo, o non c'è la casa, o non c'è la casa. Ma dai, smettela, levati davanti al portone, ti resta, o lo fotteremo, o non ti faccio la casa. A un certo punto, dal terzo piano, la faccia di me schiena, vuol dire, ho capito, consumate, molto chiuso e una detto, la tappina sia una no, c'è la staglia della notte, giovanottino, giovanottino, chi? Ti faccio fottere con me, mo' chiera, basta che lei rimane da giudofono.